LUCHA COMICS Ogni anno, ogni sacrosanto anno, dai ci organizziamo per la prossima volta, è solo che non abbiamo potuto fare tutto all'ultimo momento, non è colpa nostra, abbiamo avuto altri impegni. Queste sono solo alcune delle tante scuse che usa chi non ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa. Essere inutili e soprattutto tristi, consapevoli di aver mancato gli obiettivi più importanti delle loro vite, costretti a vivere in un limbo di rammarico ed eterno rimpianto, aspettando la giusta occasione per sempre, senza cosplay, senza fumetti, senza dette. Oh, che sta a guardare? Sto a vedere il coso là, è il Luca Gomez, sai, è fiera che fanno un toscano, tutta la gente si diverte, tutta la vestita mascherata, truccata, mazza che bello. Ciao, ciao!